Non volevo raccontare il dolore di un uomo che non voleva far vedere il dolore. Tra cui raccontare il dolore è una cosa che dura dieci minuti in un film. Se tu racconti costantemente un uomo addolorato fisicamente dopo un po' sei saturo. L'emozione di questo film non nasce dalle scene. L'emozione di questo film nasce da una condizione. Non sai neanche bene da dove sia, però ci sono dei momenti in cui ti emozioni. E se tu dovessi dire cos'è che ti ha emozionato è la condizione che vede in quel film, non è una cosa. La nostra trincea non si vede. È il nemico, è lontano. Protetto da strati di acqua ed acciaio. Ma sta là, col cuore che gli pulsa. Proprio come noi. Un comandante è solo. Un comandante ha la responsabilità di non poter mostrare le sue indecisioni alle sue pulizze. Un comandante è uno che deve prendersi la responsabilità di una decisione sul filo dei decimi di secondo, col rischio di uccidere mille persone. Forza di combattimento! Forza! Forza! Uomini in mare! Cosa facciamo, comandante? Petteremo su. Noi affondiamo il ferro nemico senza pietà. Ma l'uomo, l'uomo lo salviamo. Sono in guerra. Sono ancora un menitolo.